Oggi per me è stata davvero una corsa dura, dopo il quaremo siamo rimasti una decina, quindicina di corridori e sono rimasto con il mio compagno Ausler, dopo nel finale tutta la squadra ha tirato per me e un buon risultato in vista delle prossime appuntamenti. Anche ieri poteva andare un buon risultato, però è andata così, però oggi mi sono rifatto e non è stata facile fare un terzo posto oggi. Farò salve bianche e tirano diratico.